Scusi, sarebbe questa la macchina speciale? Sì, esatto, io salterò da questa parte e tu verrai catapultato dritto dritto sul serpentone, mi sono spiegato? Sì, ho capito, sono pronto! Vio! Attenzione, arrivo! Vio! Ah! Oh, che salto, ragazzi! Chi sono quasi? Nonna energetica! Yuhuu! Anche i picchi ero quasi arrivato, che sfortuna nera!